ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di mine test io sono mazzetess e oggi vedremo principalmente che cosa sono riuscito a risolvere dallo scorso episodio come potete sapere nello scorso episodio se l'avete visto se non l'avete visto andatevela a guardare subito comunque nel scorso episodio abbiamo scoperto come il tool workshop funzionasse solo con i cavi medium voltage di conseguenza avevamo bisogno di costruire un medium voltage generator che funzionasse con del carburante in modo da alimentare questo e poi a costruire di conseguenza una battery box e una switching station per permettere ai cavi passanti qua sotto di alimentare la battery box e il tool workshop e infatti nel frattempo dopo aver registrato quel video ho costruito tutti questi quattro ho avuto un po di problemi però vi dico uno perché vi ricordate ho chiuso lo scorso episodio guardando come si facevano i stainless steel ingot e la crafting guide non funzionava bene allora sono andato a chiedere aiuto mi ha detto no no fa schifo crafting guide usa usa unified inventory che è sempre meglio io ho detto eh ma unified inventory non ha le bags e lui l'altro mi ha detto ah ma si guarda che c'era le bags utilizzalo ti conviene aggiornare qua allora che cosa ho fatto ho messo unified inventory come potete vedere che come funziona c'ha una crafting guide qua che funziona tipo come quella solo che funziona meglio effettivamente perché questo è stato sviluppato da real bad angel che è quello che fa la tecnica e quindi ci sono anche quei modi della tecnica per fare gli oggetti c'è la crafting grid qua con tanto di cestino per cui sono indeciso se toglierlo o meno quel cestino la questo non sai che cosa sia è un cestino quello proviamo no non si può mettere niente vabbè comunque qua c'è crafting guide in cui appunto si vede le ultime cose che sono state cercate eccetera eccetera qua ci sono quando ci sono vari modi per craftare lo stesso oggetto si può alternare questo è per selezionare il punto di casa questo è per teletrasportarsi a casa tipo così no adesso così adesso come mai mi teletrasporta in un blocco più in basso ma vabbè questo cambia il tempo a mattino e questo sera sono dei comandi che non vorrei utilizzare perché mi sembrano molto da da creative non da survival però come potete vedere cambia il giorno in pratica ok questo è un comando terribilissimo clear inventory tutto quello che c'è qua lo cancella e io ho sempre il terrore di cliccarci sopra per sbaglio e queste bags dove ci sono le bags le bag si l'integrale di le bag no ci sono gli zaini diciamo come nella scorsa mod cioè come con l'altra mod che si craftano allo stesso modo così però hanno anche la texture più chiarina diciamo detto questo allora ho fatto quello ho scoperto ho fatto quello ho costruito questo di conseguenza avendo aggiunto unified inventory ho tolto la mod crafting guide ho tolto la mod bags e basta quella l'ho tenuta per ora perché non lo so mi piace avere il giustino oltre a questo ho aggiornato la mod technique per farla funzionare più seriamente e ci sono stati un po di cambiamenti per cui i solar panel adesso non si fanno più col mitri ma si fa no questo no quello di quello del mese con si fanno vabbè dopo il silicon buffer ok ma si fa con gold dust e silicon buffer e si fa con sand e cold dust quindi è una cosa molto più fattibile poi la colla vabbè si fa con i sapling e il silver wire si fa con i silver ingot che comunque una questione più comoda hanno cambiato il low voltage cable adesso si fanno con la carta e con il copper e non più solo col copper però silver mi pare che ne abbiamo poco sono andato a minare nel frattempo si infatti abbiamo poco poco silver giusto uno stacchetto e neanche mezzo sono andato a minare infatti come potete vedere qua c'è molta più roba qua c'è più roba ho preso del mese soprattutto perché cosa ci servirà ci servirà a fare i travel pad transporter pad e receiver pad per fare il teletrasporto mi servirà soprattutto per andare giù in miniera dove dovrò scavare un po soprattutto per ottenere i materiali credo per fare i pannelli solari di cui vorrò fornirmi perché credo che siano i più efficaci sia per i medium voltage che per gli high voltage perché di altro c'è poco niente diciamo quello che ho spiegato qua l'ho già detto la scorsa volta un'altra cosa è successa che è stato il fatto che vi sono messo a cercare del mare vi ricordate nello scorso episodio controllato e ho scoperto di avere poco mare in realtà in quella direzione allora ho cercato cercato fatto degli enormi pillar premendo r per vedere dove fosse un punto dove c'era un po di mare e ho trovato del mare adesso non si vede forse dovrebbe vedersi un pillar forse nascosto dovrebbe vedersi un pillar la in lontananza forse o rs non capisco perché non si vede al pillar perché proprio in quella direzione vabbè comunque se ci arriviamo e ho trovato un buon pezzo di mare non è neanche troppo male perché potremmo fare un canale per arrivare in qua ah ecco adesso si vede un canale per arrivare in qua è un canale da questo piccolo specchio d'acqua diciamo per arrivare fino al mare vero e proprio diciamo che è appunto là dove c'è quel pillar e ho scoperto che buttandosi da quella sessantina di blocchi di pillar quattro blocchi di acqua non impediscono di morire completamente e infatti sono morto completamente ecco questo qua è un buon pezzo di mare adesso non lo vedrete tutto probabilmente io l'ho visto dalla sopra ed è un buon pezzo di mare cioè non lo vedrete tutto non lo vedremo tutto però è un buon posto diciamo dove potremo costruire la nostra barca la barca della nostra ciurma detto questo io tornerò a casa dopo avervi spiegato tutto questo a e no non vi ho spiegato un'altra cosa che è stata cambiata nella tecnica quella dei stainless steel adesso lo stainless steel ingot si fa vabbè no così no ok si fa con tre carbon steel ingot e un chromium ingot e i carbon steel ingot si fanno con l'iron ingot e il cold dust non so come mai si chiamano iron ingot ma sono gli iron ingot normali cioè sono i lingotti di ferro regolari regolarissimi regolarità intestinale e niente quindi questo è tutto quello che volevo dirvi per ora ci vediamo a casa e iniziamo a fare due piccoli lavoretti a tra poco ciao rieccoci qui siamo arrivati ma voi vi direte potevamo fare semplicemente così arrivare a casa effettivamente è vero però per questioni tecniche ho dovuto interrompere tempo fa registrare quella prima parte e registrare adesso quest'altra seconda parte la seconda parte dell'episodio succederà in pratica che cosa faremo andremo qua sotto a mettere che cosa che cosa metteremo qua sotto per migliorare tutto questo no in realtà toglieremo tutto quello che pensavo è di fare una stanza con tutti i teleford pad quelli della travel net che di cui vi avevo già parlato no forse non si chiama travel net vabbè travel travel pad si chiama tipo questi qua effettivamente receiver pad transporter pad vabbè pod light non è indispensabile comunque qua sotto per tutte le varie locazioni che dovremmo raggiungere rapidamente in modo da avere questa proprio come base degli spostamenti anche dato che come avete visto nell'altro video le ricette non nell'altro video all'inizio di questo proprio probabilmente le ricette sono state cambiate per i pannelli solari è molto probabile che farà un grande parco di pannelli solari qua fuori in modo da fornire energia tramite quello ma quello lo faremo nel prossimo video adesso andrò semplicemente a mettere a posto qua sotto togliendo tutta questa barra da qua facendo un grande spazio e lasciando appunto zona libera per i pad insomma quindi adesso io interrompo ci vediamo tra un attimo quando avrò finito tutto il necessario a tra poco ciao eccoci qui adesso ecco qua potete vedere nella sua maestosità tutta la nuova ala pronta per accogliere i teletrasporti ho dovuto perderci un po' di tempo perché dietro ho messo dell'acqua così per farlo sembrare un pochettino più carino qualcosa di non troppo spoglio insomma come potete vedere qua ho un sacco di cobblestone che dovrò andare a mettere a posto degli alatron si le mettere a posto che tanto non serve a niente del copper che andremo a mettere qua no andremo a mettere qua no forse meglio di no quindi lo metteremo qua per ora tra l'altro non so se vi ho fatto già vedere ma voilà wow wow il resto vabbè lo metto poi a posto in un secondo istante in un secondo istante yeah eccoci dopo il crash in pratica stavo facendo cosa stavo facendo non mi ricordo anche più sto mettendo a posto le scale ecco qua perfetto adesso possiamo semplicemente craftare i pad faremo un receiver pad e un transporter pad qua sotto il transporter pad manderà giù e il receiver riceverà da tutti in pratica questo receiver costa poco sono 4 unità di ferro e 2 di copper e lo andiamo subito a piazzare poi gli altri li piazzerò in un secondo istante comunque qua piazziamo quello per ricevere poi craftiamo giusto per farvi vedere anche quello transporter che è molto più costoso perché ha bisogno di un blocco di mese e un lingotto di oro ah no non cuoce perché non ho più lo switching switch switch ho tolto tutto da sotto allora avremo bisogno di nuovo della nostra cara firmese ciao così tra l'altro guardate wow credo sia dal 0.4 al 0.10 perché prima non mi ricordavo questo di cosa abbiamo bisogno di altro 2 copper e 4 iron oh non abbiamo iron 2 1 2 3 4 ecco infatti non ce l'abbiamo fatta in tempo che parpa dai 1 beh intanto iniziamo a mettere quello che ci serve qua 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 no qua qua un vetro e questi tre è il transporter perfetto che andremo a mettere giù sotto qua qua accanto no io lo metterei qua da questo lato qua ci sono i transporter lo metterei qua e ci metterei anche un mi pare che sia da attivare quello però non mi ricordo più come funziona allora facciamo che mettere un cartello e chiudiamo qui rapidamente anche perché credo che con tutti i tagli e balle varie più o meno i 20 ci siamo arrivati il cartello sarà qua eh sì eccolo qui lo andiamo a piazzare e lo chiameremo mine deep mine molto piccolo però vabbè si capisce ci partirà laggiù detto questo credo che per questo episodio sia sufficiente io vi saluto no era ridotto oh dei scusatemi spero non sia stato grave ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao